A 24 ore dallo sgombero di via Riosto a Montesilvano da parte delle forze dell'ordine dopo l'ordinanza firmata dal sindaco Francesco Maragno non si arrestano le polemiche tra favorevoli e contrari al blitz. Oramai da anni noi ci battiamo affinché quel quartiere torni a rivivere la dignità dei cittadini che sono ancora lì hanno mantenuto la presenza nonostante lo scempio a cui sono stati costretti. Gli altri se ne dovranno fare una ragione e se hanno buoni propositi li mostrino, io tra tutti gli suggerirei di portarseli a casa loro. Una situazione è questa che durava da parecchio tempo il sindaco ha parlato di ritorno alla legalità però molte persone sono rimaste, anche persone oneste tanti cittadini extracomunitari che lavorano in Italia da tanti anni sono rimasti senza casa in mezzo alla strada. Per quelli noi sicuramente dovremmo in qualche modo fare un piano di integrazione sociale questo è poco ma sicuro. Rimane il fatto che per quei pochi che c'erano ve ne erano molti che davvero manifestavano tutta l'indole del canonico delinquente spregiudicato. Basti pensare che ieri in sede di Sgombero addirittura sono state riscontrate sostanze stupefacenti nonostante fosse risaputo che quel giorno lì le autorità sarebbero andate in loco per lo Sgombero. Questo dimostra come Costoro non abbiano alcuna voglia di integrarsi ma solo voglia di disintegrare la nostra società. La legalità si costruisce costruendo percorsi di integrazione si costruisce favorendo il rapporto di serenità tra le comunità che vivono nello stesso territorio e non mandando 300 agenti facendo uno sgombero con gli elicotteri facendo un blitz che ci ha portato sulle pagine regionali per un atto grave secondo me perché è un atto in cui la politica abdica alla legalità e alle forze dell'ordine invece la politica deve risolvere e cimentarsi con la soluzione ai problemi. Vorrei sottolineare una cosa e questo credo sia grave. Poco tempo fa è stato ritrovato un ordigno esplosivo a Montesilvano allora in un contesto secondo me che è caldo con quello del tessuto cittadino montesilvanese fare un atto del genere è secondo me molto grave perché continua a fomentare l'odio fra i poveri e l'odio fra chi vive lì il territorio e vuole appunto vivere pacificamente. Questo è secondo me un atto grave perché la politica non deve mettere le mani fomentando ma deve mettere le mani per risolvere e per costruire soluzioni pacifiche.